Gli uomini non sono razionali 24 ore al giorno e del resto la ricerca della verità richiede sempre una passione, la passione per la verità e anche nel campo scientifico c'è una passione che si chiama epistemofilia, cioè amore della scienza. Purtroppo noi siamo abituati a un'educazione razionale che va benissimo, ma trascuriamo quella che vorrei chiamare educazione sentimentale o questa educazione sentimentale ce l'è trasmessa in maniera indiretta attraverso lo studio delle grandi opere d'arte, sia letterarie che pittoriche che musicali. Cercare la verità significa sostanzialmente avere una motivazione per cercare la verità, perché la verità non è qualcosa di inerte che si trova già data, implica la ricerca e la ricerca implica lo sforzo, l'attenzione, la volontà di verità che è nello stesso tempo anche volontà di non cedere alle emozioni passeggere, alle falsità che vengono divulgate, ma è come un raggio di luce che focalizza le cose. Questo raggio di luce deve avere una direzione. In termini biologici non esiste verità invertebrata e la colonna dorsale della verità è appunto la passione della ricerca. Grazie. Grazie. Grazie.